Le stufe a bioetanolo con marchio Ruby sono prodotti efficienti e facili da usare, che permettono di riscaldare i vostri ambienti in modo naturale, gradevole e familiare. Dal design moderno ed elegante, la nuova stufa Ruby Elegance garantisce un riscaldamento ottimale e pulito in tutti gli ambienti, grazie all'utilizzo del bioetanolo Ecofire, un combustibile naturale derivato dalla fermentazione delle biomasse. Crea una combustione pulita, non inquinante, e la sua fiamma è di un intenso colore giallo. Tutte le stufe a marchio Ruby funzionano senza canna fumaria e garantiscono il calore e l'atmosfera adatti per farvi sentire a proprio agio in e qualsiasi stanza della vostra casa, senza sostenere nessun costo di installazione o manutenzione. Subito pronte all'uso, basterà aprire lo sportello frontale e procedere al riempimento del serbatoio, utilizzando la pratica pompetta. La fibra ceramica all'interno delle bracere assorbirà il bioetanolo e grazie al comodo accendigas in dotazione sarà possibile accendere la stufa. Grazie al sistema di ventilazione incorporata, basterà collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica e posizionare l'interruttore su ON, attivando poi la ventilazione con l'apposito telecomando in dotazione a tre velocità. Godetevi il calore naturale di una stufa a bioetanolo, senza installazione e senza canna fumaria. Scoprite la gamma completa a marchio Ruby, ricercata nel design, nella cura dei particolari e nella sicurezza, per offrirvi sempre il sistema di riscaldamento più pulito ed efficiente possibile.